Ciao a tutti, sono Roberto Bianchi, pittore di Civiana. Anch'io partecipo a Restart Dolomiti con questa mia opera, un olio su tela 50x70 del mio nuovo genere surreale. Vi aspettiamo numerosi il 26 gennaio in una location da favola, Villa Pat di Sedico. Venite, vi aspettiamo, sarà meraviglioso. Grazie. Grazie.